Jacques Villeneuve, cosa ti aspetti per questa gara a Putraiaia? Non so ancora, fa un gran caldo, quindi con la batteria dovremmo stare un po' attento con le temperature, fisicamente dovrebbe essere un po' più difficile della Cina, la pista è veramente interessante il tracciato, sono impaziente di andare in pista. E cos'avrebbe la tua prima esperienza in un'auto elettrica, quindi con la programmatica delle batterie e con questo clima terribile? Ma già abbiamo avuto tanti problemi in Cina, che è stato un buon allenamento per questa gara. Ma come pista allora ti piace? Quale è la parte difficile? Immagino anche delle formula Indy qua, quindi il tracciato è interessante, bello. Tu hai detto in conferenza stampa a Pechino che sei amante delle gare in circuito in città, con i muri che ti passano di fianco, quindi sei ben contento. Sì, poi anche perché, non solo quello, il disegno delle curve, il ritmo sembra complicato, in Cina era abbastanza semplice, chicane e curve a 90 gradi, invece qua c'è chiaramente un tracciato. Molti piloti si sono lamentati del bumpy che c'è nell'ultima curva, è così terribile? In questa pista? Sì. Ma non lo so, non l'ho vista, la vedrò domani quando si guidirà. D'altra parte sei al debutto qui, quindi giusto? Sì, poi io ero abituato in Indycar che hanno dei salti ancora più grossi di questi, quindi non è un problema.